Cominciamo dalla riete. Siate più aperti verso gli altri. Le chiusure mentali oggi potrebbero causarvi solo qualche problema di comunicazione con il mondo esterno. Un collega ha bisogno di voi per portare a termine un progetto ambizioso? Toro, il lavoro vi coinvolge in maniera quasi totalitaria, solo che in questo modo fate fatica a trovare il tempo necessario per tutte le altre cose importanti che riguardano la vostra vita privata. Per questo l'amore risente di certe vostre assenze. Gemelli, qualche momento di nervosismo serpeggiante non dovrà spingervi a prendere decisioni irrevocabili. Infatti c'è il rischio di seguire l'impulso del momento per poi pentirsi amaramente in seguito. Cancro, siete indecisi su come comportarvi in una situazione di lavoro in cui dovreste dare prova di grande affidabilità. Ma voi in questo momento non vi sentite in grado di raggiungere certi risultati. Negli affetti invece andateci con i piedi di piombo. Leone, nessuno meglio di voi sa quanto potreste tenerci a concludere una trattativa di lavoro per dimostrare a chi vi sta a fianco di quale pasta siete fatti. Le stelle potrebbero divertirsi a mettere qualche bastone tra le ruote. Vergine, non intestarditevi su posizioni che avete già ampiamente appurato non funzionare. Meglio rivedere le vostre posizioni e cercare nuovi punti di contatto. I sentimenti conoscono qualche momento di tensione. Bilancia, qualche notizia in arrivo potrebbe non essere delle più piacevoli. Invece di fasciarvi la testa prima del dovuto, cercate di appurare la veridicità di quanto vi hanno detto. Scorpione, i punti di vista sono molteplici ed oggi potreste rendervi conto che anche gli altri ogni tanto potrebbero avere idee migliori delle vostre. L'intelligenza sta nel rendersene conto e accettare anche qualche critica. Sagittario, siete un po' troppo permalosi e questa vostra incapacità di accettare critiche alla lunga potrebbe non giovare alla qualità del vostro lavoro. Accettate il fatto che non tutte le buone idee nascono all'improvviso. Capricorno, siete ben disposti nei confronti delle novità e questo potrebbe aprirvi nuove conoscenze utili sia per il lavoro che per la vita privata. Non raccontate troppo in giro certe vostre intuizioni professionali. Acquario, non è il caso di fare troppo gli spiritosi con qualcuno in ufficio che potrebbe non gradire i vostri atteggiamenti. Siate propositivi invece di criticare qualsiasi novità vi venga sottoposta. Pesci, i discorsi da affrontare durante la giornata di oggi sono tanti e a tratti anche un po' pesanti soprattutto quando si tratta di lavoro. Per questo le stelle vi invitano a scegliere ogni parola con cura e a cercare validi alleati per portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Grazie.